Ciao a tutti! Un saluto di Alexi Lalas. Durante questo periodo difficile sto pensando ai miei amici di Italia e ovviamente a Palova. Spero che tutti voi siete sicuro e che la vita in Italia e nel mondo tornerà in umiltà il primo possibile. Forza e coraggio! Forza Italia e Forza Palova! Grazie a tutti!